Andiamo subito a presentarvi proprio con una copertina, ne abbiamo ripetuto il nome per fortuna molte volte da stamattina, Narges Mohamadi. Vediamo. I am sure, with our efforts, perseverance in Iran, and with your human rights colleagues' protections, we will win, all together for peace and human rights. Contrariamente a tanti di noi che naturalmente pur avendo l'Iran nel cuore, pur ricordando il precedente Nobel per la pace a Shirin Abadi esattamente 20 anni fa, non ne conoscono abbastanza la forza d'animo. Una donna che ha 31 anni complessivamente di condanna e poi addirittura anche le 154 frustate che spero non siano state ancora inflitte e che non lo siano mai. Dunque caro Riccardo, una giornata comunque di vittoria tutto sommato. È stata una giornata di vittoria per quelle milioni di persone che in Iran si battono, scendendo anche in piazza, rischiando la vita, perdendola, finendo in carcere, per la pace e i diritti e l'uguaglianza. Narges dalla fine del secolo scorso è perseguitata dal sistema giudiziario iraniano per nient'altro che la sua attività in favore dei diritti, per le sue campagne contro la pena di morte, per le sue campagne per chiedere giustizia per i manifestanti uccisi nelle varie proteste degli ultimi decenni. Come avete ricordato, complessivamente in cinque diversi procedimenti penali ha avuto più di 31 anni di carcere, il che vuol dire che della sua vita, metà più o meno l'ha passata tra carceri e ospedali, perché è in cattive condizioni di salute da tempo e evidentemente la detenzione è incompatibile con una persona che ha un edema polmonare, che soffre di cuore, che ha avuto ripetuti attacchi cardieci solo l'anno scorso. Questo è, però resiste e anche con la prospettiva di dover passare il resto della sua vita in carcere non sta zitta. Quando è iniziato il movimento di protesta nel settembre 22 lei era già in carcere per una condanna a pregressa e con le altre detenute attiviste per i diritti umani ha incinato una protesta togliendosi il velo per solidarietà con chi in piazza e nelle strade faceva la stessa cosa. Donna, vita, libertà. Noi lo ripetiamo in italiano perché anche in Italia sono tante le persone, non solo donne, che continuano a occuparsi di questa teocrazia che è veramente, potremmo dire, uno degli aspetti più tragici del nostro tempo visto che con tanti sommovimenti geopolitici, qui invece da decenni c'è la stessa situazione. Perché secondo te? È perché la forza di quel sistema lì che si basa sui codici religiosi, quindi l'Iran è un paese in cui il reato equivale a un peccato e viceversa. Ci sono migliaia di persone in carcere per reati che si chiamano guerra contro Dio e corruzione sulla terra che sono delle definizioni che nascondono la persecuzione per motivi politici, per motivi di impegno per i diritti umani. E quindi quando le autorità sono in difficoltà usano sempre l'arma della religione nei confronti della popolazione che è devota e dicono se non ci saremo noi è tutto il nostro sistema basato sulla religione che crollerà. Ma quella generazione lì che ha il potere, che è ottogenaria, io penso non ce ne sarà una successiva di quel tipo, così retrogrado, oscurantista, medievale, misogino, patriarcale. Quindi il futuro è di Narges e delle donne che lottano insieme a lei per un Iran in cui i diritti siano rispettati per tutte e per tutti. E c'è tra l'altro questa notizia sconcertante per cui addirittura un'organizzazione internazionale importante, la somma potremmo dire, come le Nazioni Unite attraverso il suo Consiglio per i diritti umani sceglie proprio l'Iran come il paese per coordinare un'iniziativa sui diritti umani, un'iniziativa particolare che a novembre si dovrà svolgere. Come è potuto accadere? Orwell ci avrebbe scritto un altro libro su questa vicenda sicuramente. Succede che gli organi delle Nazioni Unite, quelli che hanno una composizione basata su stati membri a rotazione, soffrono di una grande influenza e intrusione della politica, per cui basta che in una situazione molto polarizzata, anche a causa della guerra della Russia contro l'Ucraina, a causa della posizione dell'Iran che si erge contro l'Occidente, contro gli Stati Uniti, è facile equalizzare un gruppo di stati che prendono la maggioranza di volta in volta su un tema o sull'altro e ottengono questo risultato sconcertante. Il sistema che non funziona in passato all'Arabia Saudita era capitato di dover coordinare azioni sui diritti delle donne, figurati. Firma ora, voi lo mettete sempre in evidenza sul vostro sito, spero che anche dalla regia possiamo farlo vedere, ma molto facilmente lo trovate. Qual è la tua lista? Prima di darti naturalmente la possibilità, Toni, di fare altre domande. Quello che volevo chiedere io era proprio questo, cosa possiamo fare noi per poter incidere su questa situazione? Sono 62 anni che Amnesty International chiede alle persone di firmare gli appelli. Oggi lo si può fare in maniera ancora più semplice andando sul sito amnesty.it. Alla fine della giornata se un appello ha raccolto 10 firme o 100.000 è una grande differenza, perché poi quelle firme lì da parte di tutte le amnesty del mondo vanno alle ambasciate dei paesi di cui si parla, vanno ai governi, vanno alle Nazioni Unite. La forza di questi appelli a volte è tale che le cose finiscono bene e adesso dobbiamo fare lo stesso per Narges. Deve essere scarcerata e deve, se le sue condizioni di salute lo permetteranno, andare a Oslo a prendere questo premio. Vi dico che c'è un brutto precedente che non dobbiamo assolutamente ripetere. Nel 2010 il Nobel per la pace andò a un'altra persona in carcere, un dissidente cinese, Liu Xiaobo. La comunità internazionale non fece molto per far sì che lui potesse andare a ritirare il premio uscendo dal carcere. E se lo sono dimenticato, nel 2017, cioè sette anni dopo il Nobel per la pace, mai ritirato, è morto con un cancro in fase terminale, mai curato e questo è ciò che non deve succedere assolutamente. Veramente terribile questo epilogo, questo elemento che ci hai messo giustamente in evidenza. Tu personalmente quale contatto hai avuto con la premiata, con Narges? Sempre mediati, voglio dire, mai di persona perché lei era, ha passato quasi tutta l'inizio di questo secolo in carcere praticamente. Però nei momenti in cui era in libertà, in cui era in buone condizioni di salute, ci si scriveva quel video che avete mostrato all'inizio, bellissimo. E' il video con cui Narges ringraziava Amnesty International nel 2020 e tutte le persone mobilitate sulla sua vicenda, perché diceva, siete stati voi a farmi uscire dal carcere, continuate, continuate a sostenere i movimenti per i diritti umani. Ma lei dal carcere... Quello è stato il momento più bello. Eh beh, certo, peccato che dopo sia tornata appunto un anno fa qualcosa di più di nuovo a essere arrestata. Considerate che è una giornalista, quindi sicuramente anche questo l'aiuta ad avere forza d'animo a continuare a lavorare dal carcere. Sai, poter esprimere e scrivere nei propri sentimenti aiuta molto, quindi hai ragione. Lei riesce a far uscire a volte delle cose scritte dalla prigione. Sono delle cose molto profonde, molto belle. Di denuncia naturalmente sulla violenza sessuale contro le detenute e altre, ma anche riflessioni più ampie sul futuro del suo paese. In cui io sono certo un giorno avrà un posto. Speriamo soprattutto che possa presto almeno sentirsi al telefono con la sua famiglia, con suo marito in esilio a Parigi da anni, che ancora appunto, ancora oggi abbiamo letto su Repubblica che da 19 mesi non la sente. È 11 anni che non la vede praticamente. Quindi immagina che rapporto forte c'è tra queste due persone, molto ispirato certo dall'amore, ma anche da questa passione comune per i diritti. Riccardo, ti so sempre molto impegnato, ma sempre molto ci dimostri appunto la tua disponibilità, anche perché non da oggi cerchiamo di fare la nostra piccola parte. Avevamo cominciato proprio con la radio, se ben ricordo. Intanto, Tony... Assolutamente sì. Quindi invitiamo tutti quelli che ci stanno seguendo ad andare sul sito di Amnesty International, a rifirmare questa e le altre petizioni che Amnesty ci propone, proprio per sostenere quanti si battono tutti i giorni per la libertà. Grazie Riccardo Nuri, portavoce italiano di Amnesty International, per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente. Quindi speriamo di risentirci presto e di risentirci con belle notizie. Riccardo Nuri, portavoce italiano di Amnesty International,